ragazze buongiorno buongiorno anche oggi vloggo dai 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 allora il tempo sembra messo bene naturalmente non vi faccio vedere la sposa perché sembra un puffo perché praticamente ha i bigodini e una retina celeste proprio sembra un puffo vi faccio vedere maya aggiorniamo il calendario perché oggi ne abbiamo ma quanto ne abbiamo 14 finalmente allora ragazze vi faccio vedere intanto sono spariti tutti quegli scatoli con tutte le cose ieri sera poi dopo cena ho preparato il tavolo ora qui ci andrà il cesto di fiori che porterà il fiorista e non so magari ci metto qualcosa con un po di confetti perché un po di confetti ancora ce li ho qui ho preparato queste alzatine perché mio marito ora porterà una serie di cornetti tutti i gusti per appunto fare un piccolo rinfresco anche per gli addetti ai lavori il fotografo la make up artist quindi ci sarà un piccolo rinfresco e poi che cosa vi voglio fare vedere vi voglio fare vedere tutti i palloncini che ho gonfiato ieri sera intanto già ho fatto il letto questo è il piumone quello di maison du monde vi faccio vedere la scritta bride guardate la scritta bride rosa e poi vi faccio vedere un po di palloncini che ho gonfiato ieri sera questi serviranno proprio per così per un po di coreografia con il fotografo poi vi faccio vedere la vestaglia con la sottoveste sotto di mia figlia che si metterà mentre la truccano mentre la pettinano queste sono le scarpe da sposa ve le faccio vedere in anteprima queste sono di atelier e me queste sono le ciabattine che invece indosserà durante la preparazione e poi che cosa vi posso fare vedere niente per il momento non vi posso fare vedere altro e quindi niente ragazze diciamo che sono a buon punto sono le 8 e 30 finalmente ragazze ho tolto tutte le coperture dai divani perché sapete che non ne potevo più aspettavo questo giorno per togliere tutte le coperture quindi da qui l'ho tolto ieri ho spolverato benissimo questa console questi sono trucchi di mia figlia poi che cosa dirvi ora naturalmente una passata nel bagno la faccio ho messo gli asciugamani nuovi quelli bianchi che ho comprato ultimamente quelli tipo bnb bianchi semplici e ragazze niente tutto qua naturalmente vi andrò aggiornando nel frattempo che appunto facciamo qualche cosa vi vado aggiornando ieri sera abbiamo portato tutto il location vi ripeto e niente ragazze ci vediamo tra un pochino